Allora 1-0-0, peccato per questo secondo tempo in cui non sei riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Sì, peccato perché poi comunque anche il primo tempo eravamo in partita, poi eravamo al secondo tempo in superiorità numerica, abbiamo sfruttato bene le situazioni, non siamo stati cattivi sotto porta, non so quanti angoli abbiamo battuto, dispiace per quelle due o tre situazioni che non ci siamo arrivati, però c'è da dire che la squadra ha giocato, ha dato tutto quello che poteva dare e portiamo questo punto a casa, dispiace non averla vinta, guardiamo anche la situazione che in questo momento qui non siamo più ultimi, siamo davanti alla Juventus e con tutte le problematiche che ci sono, che ci sono state, è un grandissimo passo avanti perché questa squadra comunque oggi ha dimostrato di essere una squadra che comunque lotta. Lei ha notato il cambiamento dal punto di vista mentale della squadra dopo gli ultimi sviluppi in positivo sul fronte societario? Sì, questa è una squadra che si allena sempre al massimo, è una squadra che ha la cultura del lavoro perché poi comunque c'è il rispetto, lavorano durante la settimana e nessuno si tira indietro, sono professionisti seri, basta pensare come abbiamo preparato la partita da ieri, ci siamo ritrovati direttamente al campo da ieri e comunque si sono gestiti da solo, facendosi il pranzo, la cena, gestendosi, io penso che più di questo questi ragazzi non possono dare perché hanno dato tutto, abbiamo giocato contro una squadra che secondo il mio punto di vista è una squadra forte e sì, guardiamo l'inferiorità numerica, però queste sono partite che se non stai attento le perdi pure. La squadra è una squadra che è comunque abituata a soffrire, è una squadra che comunque si allena benissimo, io devo essere solo contento di questo gruppo qua perché dipendentemente da tutto danno il massimo in allenamento. Certo che io e il mio staff non è che stiamo solo allenando sul campo, stiamo allenando anche fuori dal campo per quanto riguarda l'aspetto di testa.